Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Questa situazione qui è devastante, disastrata e questo significa che ho da fare il video sui prodotti finiti del periodo. Non mi perdo in chiacchiere perché i prodotti sono veramente veramente tanti e quindi direi di cominciare subito. Allora comincio con questo pacco di salviette al talco di seta blu, mi dispiace dirlo ma le butto via comunque anche se ancora ce n'è all'interno. Non mi sono piaciute per nulla, io credo che sia una confezione fallata perché le salviette erano già secche praticamente tranne la prima. È un vero peccato perché non è giusto buttare le cose non utilizzate, però purtroppo è così. Quindi non so se è questa nuova formula al talco, non so se è la confezione falsata, però purtroppo è un no e le devo buttare via. Poi ho finito giusto stamattina praticamente l'acqua micellare di Avon True della Nutra FX per tutti i tipi di pelle. Questo è il boccione da 400 ml. Ragazzi è bellissimo, è fenomenale questa acqua micellare perché a me non brucia assolutamente e io vado proprio pesante con gli occhi. Strucca veramente tutto e io l'ho già ricomprata. Poi ho finito questo bagnoschiuma di Pupa Milano trovato in una latta in cui ho fatto anche il video ed era praticamente al tè verde, se non sbaglio, o tè bianco. No, tè verde sì, tè verde. A parte la confezione è bellissima che è stato un colpo al cuore comunque averla rovinata, però veramente veramente buono questo bagnoschiuma e mi è piaciuto comunque un sacco. Ancora ho la crema corpo. Poi ho finito un tonico per il viso della Clear Skin di Avon. Questo è contro i punti neri, blackheads. E è il mio tonico preferito, infatti ne ho subito praticamente utilizzato un altro e ne ho un'altra ancora. Ma questa è tipo la duecentesima confezione che finisco. Ve ne ho parlato varie volte, è veramente buono. Poi ho finito in realtà più, sì, più prodotti per i piedi. Ho finito questa crema intensiva per i calli della Footworks, come vedete ho anche tagliato la confezione. E ho finito anche questa qui che era ancora più vecchia. Questa è praticamente per la pelle screpolata, comunque i prodotti della Footworks sono veramente buonissimi. Ci sono persone che mi chiedono questi prodotti, cioè non serve manco dargli il catalogo perché mi dicono ci sono ancora i prodotti per i piedi? Ok, prendimene 5-6 perché sono veramente veramente ottimi come prodotti. Poi cos'altro abbiamo qua? Allora ho finito questo spray per i capelli. Questo era uno spray illuminante. Vi dico la verità, la luminosità, diciamo comunque i capelli lucidi, coi capelli ricci è abbastanza difficile da vedere se il capello è più o meno luminoso. Non so perché. Quindi non so effettivamente se grazie a questo si è aumentato la luminosità o meno dei capelli. Però io questi spray li adoro già solamente per il fatto che profumano i capelli in una maniera esorbitante e io lo mettevo comunque dopo la piega, diciamo dopo l'asciugatura. Poi ho finito questo bubble bath qua, French Lilac. Non è la mia profumazione preferita, però non è nemmeno male. Questa è comunque una delle classiche profumazioni della linea del bubble bath. Poi ho finito uno shampoo, che era uno shampoo vecchissimo, era una vecchia riserva, Lissan 3x7. E vabbè, io non vi dico più nulla, ve li faccio solamente vedere e basta. E poi cosa ho finito? Allora, questo profumino qui, il Brazil Beat, è completamente finito. Praticamente questo profumino, ormai, dato che l'estate è bella che è finita da un pezzo, tra un po' c'è l'estate del 2019, questo qui a un certo punto è arrivato a settembre e l'ho messo nell'ambiente unico che abbiamo a casa, come deodorante sui fiori comunque finti che abbiamo, abbiamo dei mazzolini. Quindi una volta a settimana all'incirca li lavo, li sciacquo e poi gli spruzzo questo. Ed è assolutamente fantastico, perché mi è andato a deodorare comunque tutto l'ambiente. Quindi questo è un piccolo consiglio che posso darvi, se ci sono dei profumi che non vi piacciono più molto. Comunque questa era veramente molto buona, è il classico profumo essivo che Avon lancia ogni anno, davvero davvero buono, mi è piaciuto. Cioè se lo trovate in offerta comunque per l'estate è ottimo. Poi ho finito una crema a mani e per me è tipo un evento aver finito una crema a mani, ma è stata complice la confezione piccolina. Infatti le prenderò comunque tutte così, era la crema a mani e la glicerina e io per un periodo di tempo la mettevo due o tre volte al giorno. Comunque è buonissima perché non unge le mani, si assorbe subito e quindi fin da subito potete tornare a utilizzare tranquillamente le vostre mani. Poi ho finito una crema a viso delle New, diciamo che mi sto impegnando molto a finirle. Le utilizzo anche due o tre volte al giorno, sempre la stessa, cioè non faccio differenza. Ehi, metti a fuoco. Fra notte e giorno, questa tra l'altro è il doppio trattamento, quindi per una settimana si utilizzava l'uno, per una settimana si utilizzava il due. E che dire, mi è piaciuta molto, peccato che questa confezione costi veramente tanto perché effettivamente il fatto, scusate, purtroppo sta anche piovendo, quindi vabbè, il fatto di utilizzare due creme in alternanza è veramente molto buono e quindi a me è piaciuto diciamo molto, però costa veramente tanto. Ma quando è in offerta, tanto, tanto, quindi quando è in offerta la prenderò sicuramente. Poi, cos'altro ho finito? Allora, ho finito questi campioncini che mi hanno preso da Mela Verde Bio. Aspettate che mi metto comunque qui. Ok, perfetto. Questi campioncini qui. Ok, ci siamo. Day by Day, concentrato purificante, erano due, con 3-3 oil, per pelle impure e grassa. Mi sono piaciute della Bio Heart. Mi sono piaciute tantissimo, veramente, veramente tanto. Cioè, la pelle era idratatissima e quindi prima o poi comprerò sicuramente la confezione intera. Poi, sempre in ambito bio, tra l'altro c'era anche questo qua, forse era il gel viso. Se non sbaglio, questo gel viso si doveva utilizzare... Sì, vabbè, come una sorta di siero, se non sbaglio, almeno io l'ho utilizzato così. E poi ho finito due integratori. Allora, il carbone vegetale di equilibrio. Sono 50 compresse, se ne prendono 4 al giorno, quindi non vi dura tantissimo. E, sinceramente, non mi ha fatto lo stesso effetto dell'altro che ho preso. Quindi, non so, non sono molto propensa a riacquistarlo. E, invece, ho finito... Questa, se non sbaglio, è la Melissa. Sì, la Melissa. Questa, ragazze, mi ha cambiato. Ho preso da me la verde bio della Natural Plus. Mi ha cambiato, praticamente, completamente. Perché mi è arrivato anche il ciclo regolare e io non ho l'emestruo regolari. Questo era in gocce. Davvero, io ve lo consiglio, se avete problemi di regolarità generali dell'intestino o anche di ciclo, provate a fare un ciclo di Melissa. Io credo proprio che la riacquisterò perché mi ha effettivamente aiutato tantissimo. Nulla, ragazze, questo era tutto l'Ambaradam di prodotti finiti. Quindi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io, come se, ve ne mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazze!